Non riesci a catturare l'interesse nei primi secondi della tua routine, della tua performance? Questo è uno dei punti che mi viene più richiesto. Come faccio a catturare l'interesse in chi ho di fronte? Come si fa? Dov'è la chiave? Qual è il segreto per fare in modo che il vostro pubblico, che il tuo pubblico, che i tuoi amici, che i tuoi familiari rimangano così? Quindi attaccati e incollati a quello che tu stai facendo vedere. Vuoi sapere il mio segreto? Vuoi sapere il vero segreto? Rimani con me fino alla fine di questo video e lo scoprirai. Ti darò i tre consigli fondamentali per raggiungere il tuo obiettivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punto numero 1 Padroneggia la tecnica E tu dici, eh vabbè, ma cosa c'entra padroneggiare la tecnica? C'entra e come? Immagina se tu fossi davvero un mago. Se tu fossi davvero un mago e dovessi cercare di coinvolgere dall'altra parte quindi lo spettatore, immagina di dire che ti arriva uno spettatore con la solita battuta fammi apparire dei soldi, ok? Quindi immagina se in quel momento tu hai la possibilità di creare magia facendo così e ti appare un lingotto d'oro sulla spalla. Dici, oh, guarda, la persona dall'altra parte riceve il lingotto d'oro e sarà molto felice, vero? Quindi hai lavorato sulle sue emozioni, quindi hai compiuto quella prospettiva perché lui ti ha fatto una battuta di fame per gli soldi, tu hai fatto così e quindi hai creduto di essere un mago, hai fatto aprire il lingotto d'oro e gliel'hai dato, ok? Quindi hai giocato sull'emozione dello spettatore e quindi è stato vincente perché l'hai dato un lingotto d'oro e lui tutto felice di avere questo lingotto. Quindi tu non hai pensato alla tecnica, vero? Hai solo giocato a fare il mago facendo così e facendo apparire la cosa. Quindi hai interpretato il ruolo del mago al 100%. Sei stato credibile, ok? Non stavi pensando adesso devo mettere la mano così, devo mettere la mano così, no, no, no. Stavi pensando ed eri concentrato al tuo obiettivo. Il tuo obiettivo era far apparire il lingotto d'oro, ok? Per cui non pensavi alla tecnica perché ormai sei un mago. Per cui se tu impari a padroneggiare la magia, cioè la tecnica, nel momento che avrai bisogno di quella tecnica, lo farai ad occhi chiusi, lo farai come fare questo, uno schiocco. Quindi se tu devi fare un cambio di card, un palmero, una moneta o quel che è, non avrai bisogno di pensare a quello che dovrai fare. Mi segui? Punto numero due. Esperienza. Esperienza è un punto davvero molto importante. Una volta che hai imparato a padroneggiare quella tecnica al 100% che la fai ad occhi chiusi, viene la parte più importante. E' l'esperienza. Quindi dovrai sperimentare questa tecnica davanti alla gente. Ma capisco che in questo momento non possiamo farlo. Perciò ti propongo una cosa. Questo che ti sto per dire è davvero molto, ma molto, ma molto importante, perché questo fa parte di chi sta facendo il corso privato con me. E' una cosa che li faccio fare ai miei allievi. Perciò apri bene le orecchie. Una volta che hai tirato fuori l'effetto magico che vorrei presentare, che ti sei allenato sulla tecnica, che la padroneggi, che la fai ad occhi chiusi, quello che dovrai fare è chiamare i tuoi amici su Zoom, oppure ti apri una live su Instagram, non importa, chiama due o tre amici su Zoom e li fai vedere la tua routine. Questo lo farai con diverse persone. Perché? Perché questo ti aiuterà a capire, una volta che padroneggi bene la tecnica, ti farà capire attraverso l'interesse che andremo a parlare nel terzo punto, ti darà l'esperienza, che è quello che serve anche a te. Perché tu, attraverso l'esperienza, diventerai sempre più sciolto, diventerai sempre più vero, più reale. Per cui il punto numero due, attraverso l'esperienza, devi fare così. Con tanti tuoi amici, gli dici, becchiamoci alle tre del pomeriggio, alle nove di sera, non importa, chiami due o tre, gli fai vedere le tue magie, le tue tecniche, quello che hai imparato per fare in modo che tutti i giorni ti alleni, ti alleni, ti alleni, e puoi sempre provare con persone diverse. Vedrai che in una settimana, se lo fai per una settimana di fila tutti i giorni, oppure se lo vuoi fare per un mese o facendo una volta alla settimana, vedrai quanto la tua maggioria cambierà da un giorno all'altro. E punto numero tre, non per questo almeno importante, Qual è il punto numero tre? Ah, iscriversi al canale? Iscrivetevi al canale. No, 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 facciamo sul serio. Il punto numero tre, andiamo a toccare il punto più importante. Il vero segreto per attirare l'attenzione, l'interesse, catturare immediatamente l'attenzione nei tuoi spettatori, in chi hai di fronte e ovviamente l'interesse. Sì, ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che devi lavorare con la tua verità. Che cosa vuol dire questo? La verità del mago sulla scena. Ok? Che cosa vuol dire la verità del mago sulla scena? La verità è semplice. È quella verità che tu porti quando presenti un qualunque tipo di effetto. Ok? Quindi non ha importanza quello che fai, è il come lo fai, è il come lo presenti. La magia è 80% di presentazione e la tecnica è il 20%. Io la percentuale la farei di meno. Nel 1800 i maghi studiavano nei minimi dettagli quello che era la presentazione per portare quella verità in scena. Ed è così che mettevano in dubbio nella mente delle persone se quello che stavano vedendo era vero o no. Alcuni dicevano, credevano che i maghi avessero veramente dei poteri. Per cui, questo col correre del tempo è andato giù in piccata. Perché? Perché più è andato avanti il tempo, questa verità della magia è calata. perché nel 1800 il mago aveva capito che il mago, cioè il presidiatore aveva capito che il mago era un attore che interpretava la parte del mago. Per cui, capendo questo, partendo da questo punto di vista, noi siamo attori, piccoli attori, che stiamo interpretando il ruolo del mago. Per cui, se io sono un attore che interpreto il ruolo del mago, e se io pensassi veramente, avessi dei poteri, facendo così potrei creare le cose. Ma siccome non sono un mago, non posso fare così per fare le cose, quindi devo interpretare al meglio quella parte. Per cui, più tu sei vero, più tu sei credibile, più catturerai l'interesse delle persone. Non è lo stesso dire, allora ho un bicchierino, adesso metto un pochino di zucchero. Non è credibile. Ma se tu cerchi qualcosa del tuo interesse, vai a cercare qualcosa che ti interessa, leggi un libro, guardati un film, scopri qualcosa del tuo interesse e abbinalo alla tua magia, ok? Quindi prova a trovare una cosa che ti piace e prova a vedere come puoi mescolare la magia che stai per fare, la puoi mescolare a una cosa che tu fai. E se non è vero, non importa, cerca di immedesimarti nella parte, di comprendere come fanno. Quando tu vedi gli attori nei film, non ti poni la domanda dicendo ah sì, quello là è un attore che sta interpretando il ruolo del dottore. No, tu credi veramente che quello lì sia un dottore, giusto? Quindi qua nella magia è la stessa identica cosa. Devi portare quella verità. Più tu sei vero, più sei credibile, più l'interesse aumenta verso le stelle. E questo è garantito al 100%. E questo è un grossissimo problema nella mediocrità della magia mondiale. Che non sono credibili. Perché credono di avere dei poteri e fanno delle cacate. Sono solo cacate. Per cui dovete cercare dentro di voi e tirarle fuori, tirarle fuori, tirarle fuori. Per cui, caro amico, spero che questi tre consigli ti siano di molto aiuto. Fidatemi. È quello che io applico ogni giorno alla mia magia. E ti invito non soltanto a iscriverti a questo canale, sennò che se vuoi approfondire questi discorsi ci sono due scelte da fare. Hai visto il film Matrix? Pillola blu. Pillola rossa. Scendi quella blu e continuerai a comprare giochi di magia e continuerai a farle uno dopo l'altro e rimarrai sempre vuoto perché non ti darà più niente. Se invece scegli la pillola rossa, star mansito, che sono io, ti farà vedere quanto è profonda la tana del coniglio. E per farlo ti invito a iscriverti nella pagina che trovi qui, il link in descrizione. Entra lì dentro e scoprirai come portare la tua magia al livello successivo. A te la scelta, amico. Ciao.